Allora, bentornati, bentornati in diretta. Adesso parliamo della salute della nostra pelle, perché purtroppo soffriamo molto spesso di dermatiti, dovuta a cosa? A dei tessuti che noi indossiamo. Allora, a cosa dobbiamo porre attenzione? Che tipo di tessuti anche scegliere? A questa domanda risponderà la dottoressa Pucci Romano, che torna a trovarci, dermatologa, schineco. Però io, prima di parlare e di fare tante domande alla dottoressa, perché sono molto curiosa, io vorrei fare i complimenti a sua figlia, Carolina Castagna, che si è laureata proprio in medicina. E tra un po' l'avremo qui ospite, o sbaglio? E' un'emozione forte, no? Molto, molto. E' stata molto brava, devo dire, sono molto fiera di lei. Sarà un bravo medico. Non è perché poi, insomma, la specializzazione, poi adesso lei... Lei vorrebbe fare la pediatra. Vediamo, speriamo. Speriamo, dai, insomma, alle porte. Ecco, vediamo una foto meravigliosa di Carolina e di lei, dottoressa, magnifica questa foto. Siamo a New York qui. È stata a New York, per cui, insomma, speriamo, e in bocca al lupo per tutto a Carolina. Per tutto, sì. Allora, iniziamo con il nostro argomento. Abbiamo parlato di tessuti sintetici che possono provocare queste dermatiti fastidiose. Ma perché fanno male questi tessuti? Ma intanto ritorniamo sempre allo stesso concetto, che la pelle non è un involucro, è un organo, e in quanto tale interagisce con tutto quanto mettiamo sopra. Di solito noi parliamo di cosmetici, invece un'altra macrocategoria che impatta con la pelle sono i tessuti. E i tessuti hanno una dermocompatibilità a seconda se sono naturali o se sono sintetici. Un tessuto come il cotone, la lana, la seta, il lino, sono categorie che hanno molto a che fare con la nostra pelle. La lana forse è quella meno di tutti, molto meglio il cashmere, anche se è più costoso, ma la pettinatura del suo filato è molto affine alla pelle. Ma tutti gli altri tessuti, e purtroppo la tecnologia ce ne regala sempre di più, per esempio noi abbiamo visto un incremento delle micosi, quella famosa fungo bianco, negli sportivi, quando utilizzano queste magliette tecniche. Esatto. Perché? Perché questi tessuti non favoriscono prima di tutto la traspirazione. La pelle, tra le tante funzioni meravigliose che ha, ha quella del regolamento della temperatura, termoregolatrice. Pensate, i bambini immaturi o prematuri, perché devono stare nell'incubatrice? Perché non hanno ancora sviluppato questa funzione nella loro pelle e morirebbero se non avessero il supporto. Quindi la termoregolazione è importante. Perché non va, attenzione a queste magliette, anche quelle termiche, che non fanno traspirare la nostra pelle. Perché nel deserto ci si copre con la lana? Perché la lana, i tuareg girano con le cappe di lana, perché la lana ti tiene la tua temperatura costante, che è sicuramente più bassa di quella del deserto. Allora, parliamo dei tessuti incriminati, no? Parliamo di queste sostanze. Allora, quali sono queste sostanze a cui dobbiamo fare attenzione? Beh, insomma, le sostanze purtroppo tra la manipolazione della filatura, oltre alla qualità del tessuto, quindi alla provenienza sintetica, abbiamo anche le procedure di colorazione. Quindi colorazione e tinture possono fare la differenza. Quante volte ci siamo messi un jeans e c'è rimasto il blu sulle gambe? Quello è molto brutto, perché vuol dire che c'è del cobalto lì dentro. Le sostanze che possono colorare i tessuti sono molto pericolose. Noi abbiamo spesso a che fare con cobalto, cadmio, che fa il rosso, ma anche altre sostanze sintetiche come la formaldeide. La formaldeide che viene utilizzata molto per sbiancare i tessuti, o i perclorati, o addirittura gli ftalati, che oggi sappiamo essere dei perturbatori endocrini. Ora, io non voglio allarmare. No, anche perché, insomma, anche le marche, così, usano, no? Per cui, insomma, quando ti compri, no? Anche marche famose, purtroppo. Noi abbiamo una regolamentazione molto severa in Italia, però spesso la tessitura e la manifattura viene delegata all'estero. Noi dobbiamo pure attenzione anche al cotone 100%? Certo, assolutamente. Ecco, questa è una cosa che voglio proprio dire. Questo cotone, che darebbe subito l'idea della purezza, il cotone naturale non è bianco, ha un colorito, è cru, diciamo, è quasi di questo colore il cotone organico. Per renderlo così, e questa è una maglietta per adulti, ma pensiamo ai body per i neonati, all'intimo, viene trattato con degli sbiancanti, che sono appunto formaldeide, perclorato e altre sostanze. Noi abbiamo fatto come Schineco uno studio, abbiamo visto che non bastavano 10 lavaggi per eliminare queste sostanze dalla fibra. Questo bisogna fare molta cosa, perché, allora, chiariamo subito, cosa accade alla nostra pelle, quando entra in contatto con queste sostanze che irritano la nostra pelle? Certo, intanto diciamo che noi, avendo degli umori, tra la sudorazione e la pelle viva, interagisce e può sciogliere delle sostanze che sono presenti nei tessuti, e quindi averne un danno, questo cuscino, per esempio. Molto bello, comodo, anche morbido. Molto morbido, è fatto con una microfibra, verosimilmente sintetica. Mi fa pensare a un lavoro inglese, che è stato pubblicato, in cui un insieme di persone, che aveva acquistato un divano in una macroazienda, aveva contratto una dermatite sul tronco, perché gli inglesi tornano a casa, si spogliano, si aprono una birretta, si siedono a vedere la televisione, questo contatto scioglieva delle sostanze in questi tessuti e avevano tutti la stessa dermatite proprio da dove si appoggiavano. Allora, parliamo dei sintomi, dottoressa. Come facciamo a riconoscere una dermatite da contatto? O meglio, irritativa, perché è difficile avere, tranne questo caso estremo. Intanto, rossore, prurito, cioè tutti i parametri dell'infiammazione. Quindi, pensate per esempio alle ascelle. Molte volte noi lo vediamo come dermatologi, questi dermatiti irritativi da contatto, alle ascelle dopo aver indossato poliestere, poliammidi, eccetera. Perché? Perché il sudore non traspira bene, ristagna, aumentano i batteri, quindi si può avere proprio un'alterazione anche del microbiota. Sapete che noi sulla nostra pelle c'è il secondo microbiota più importante dopo quello intestinale. Quindi, interferenza è importante. Siamo sempre lì. Non consideriamo la nostra pelle un involucro. Ricordiamoci che interagisce con quello con cui mettiamo sopra. Allora, in presenza dei sintomi, rossore, gonfiore, prurito, eccetera, eccetera, bisogna andare subito dal dermatologo, dottoressa. Perché poi il fai da te non paga mai, ovviamente. Anche per avere una raccolta si chiama anamnestica. Cioè, io interrogo il paziente e così veniamo a capo di quello che gli è successo. Perché magari, ritornando per esempio all'esempio della scella, magari la persona pensa che è stato il deodorante, è invece stata la maglietta. Il tessuto, è certo. Il tessuto che è entrato a contatto. Allora, oltre alla scelta dei tessuti, noi dobbiamo porre anche attenzione al lavaggio. Certo, assolutamente. Allora, io sono chiamata la morbidente, no? Che ne usiamo parecchio, tanto, per profumare il nostro tessuto. Purtroppo... Anche in questo caso il lavaggio è importante per evitare queste dermatiti. Certo. Allora, le nuove lavatrici, per esempio, hanno, sono diventate, lo vedete, A, 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 3, 4, 5, A, eccetera. Che cosa fanno di fatto? Si è ridotta la quantità di acqua, quindi diventano ecologiche per questo motivo. Ma se noi continuiamo a utilizzare delle sostanze come l'ammorbidente o il detergente in uguali dose, noi non li sciacquiamo più bene questi... E quindi l'ammorbidente è una sostanza che contiene, come al solito, quello che fa bene o fa male alla pelle, fa male all'ambiente e viceversa. È una delle sostanze molto poco biodegradabili. E guarda caso è quella che rimane spesso nelle fibre se non è sciacquata bene. Esatto. Quindi dobbiamo... E tutti avvertono addirittura di sciacquare il capo una volta... Sì, ma anche io quello che raccomando è di lavarli prima di indossarli. Perché quando sono nuovi, soprattutto quelli per l'intimo. Non ci dimentichiamo che le mucose hanno delle secrezioni, soprattutto quella femminile. Quindi l'intimo, la mutandina, prima di indossarla, non la indossate dalla bustina. Laviamola anche con un po' di acqua e aceto o acqua e bicarbonato. Che sono... Disinfettiamoli. Ma anche ammorbidenti, naturali e biodegradabili. E una cosa voglio dire, c'è in aumento... In Italia sta ritornando la coltivazione del bacco da seta. Ah, per fortuna. E che è un tessuto, la seta, molto dermocompatibile. Insieme al cashmere, cashmere italiano. Rivolgiamoci al made in Italy. Certo. Quando dobbiamo acquistare. È vero. È vero, è un po' più caro. Ma evitiamo la bancarella, evitiamo i tessuti non garantiti. Perché nei paesi, soprattutto asiatici, non c'è un controllo di queste garanzie. Allora, ci sono delle etichette che ci identificano. È vero, dottoressa? Quello dobbiamo porre attenzione. Per capire, nella scelta anche dei tessuti. E ci sono anche dei marchi che garantiscono la qualità del tessuto. Ovviamente, è l'azienda che sceglie di metterci la faccia. Quindi, chi si certifica, in qualche modo, sa di avere un prodotto di qualità. Grazie alla dottoressa Pucci Romano. Grazie davvero per questa indicazione. Fate attenzione. Io mi sposto e raggiungo il professore.